ciao a tutti torniamo oggi con la nostra rubrica dedicata ai volti più in voga insomma nel mondo digital ad oggi e oggi siamo qui con alessandro monterosso forbes under 30 quindi anche giovanissimo fondatore di patch ai una start up che si basa appunto sull'intelligenza artificiale ciao alessandro e grazie per essere qui su mani.it ciao marta grazie l'invito e buongiorno a tutti allora senti alessandro io mi sono un po informata su quello che fate con la vostra startup e mi ha molto colpita il motivo per il quale ho deciso insomma di chiamarti qui su mani.it perché in italia si parla pochissimo di health care no cioè proprio quasi quasi come se non esistesse infatti abbiamo visto i miliardi di problemi che abbiamo avuto durante il covid quindi vuole un attimo capire una persona così giovane che si è lanciata su questo mondo cosa vuol dire health care oggi no perché credo che sia anche un po cambiato il significato rispetto magari a 30 anni fa molto volentieri allora sì allora cosa significa health care per me intanto è health care e non sick care che è un po quello che in realtà fino ad oggi è stato nella quello che è successo negli ultimi dieci anni o anche prima è che fondamentalmente l'approccio è sempre all'approccio del paziente è sempre stato attorno alla cura del paziente invece negli ultimi anni inizia a sensibilizzarsi sia la popolazione sia i processi di cura in maniera di spostarli verso la prevenzione più che verso la cura quindi ridurre tutto quello che è legato alla cura clinica di una patologia e cercare di andare verso la prevenzione e verso la anche la previsione di alcune patologie ed è dunque grazie all'uso di tecnologie partendo da tutti quei dispositivi che ne utilizziamo come wellness personale quindi il watch di turno le applicazioni fitness grazie alla quale abbiamo una raccolta dati massiva che può la cui analisi può iniziare a suggerire quelle che possono essere dei trend in maniera predittiva questo il futuro sarà quindi molto più predittivo molto più preventivo rispetto ad essere solamente legato alla cura. Tu appunto parli di previsione no? Quindi appunto fai un discorso di prevenzione che è più che mai importante e che appunto in Italia si investe poco anche sulla prevenzione cioè come dici tu si arriva quando stai già male e a quel punto insomma si spera che tu ti salvi però si cerca di far prima no? E quindi appunto ti volevo dire che cos'è che c'è di così innovativo su Patch.ai? Cioè proprio il fatto che voi puntate su un percorso individuale della persona cioè fatto ad hoc cioè com'è che funziona? Io al suo scarico no Patch.ai o comunque mi faccio l'abbonamento no? Cioè com'è che funziona? Allora l'idea di Patch.ai è nata proprio tra le corsie dell'ospedale. Io nasco come infermiere e dopo una specializzazione in ricerca applicata ho iniziato a lavorare a quelle che sono le famose sperimentazioni cliniche dei farmaci quindi un farmaco primo a entrare in commercio ad esempio il vaccino del covid viene testato su dei volontari prima sani e poi con la patologia. Durante il mio lavoro mi accorsi che c'erano delle ancora delle inefficienze perché nonostante fosse il 2016-2017 circa il 50% dei dati che veniva raccolto dai pazienti veniva fatto su carta e penna o con delle soluzioni molto vecchie che erano costruite proprio con l'obiettivo di far una raccolta dati. Io me lo immaginavo un po' come un questionario di carta digitalizzato e dunque partendo da questo presupposto con i trend che invece in parallelo stavano andando molto avanti in tutto quello che era il settore wellness e soprattutto anche in altre industrie quello che secondo me e anche secondo letteratura era importante era andare a cambiare il comportamento del paziente. Se ne andiamo a pensare al modo in cui sono costruite le applicazioni anche per esempio i social media sono costruite in modo tale da creare engagement. Aumentando l'engagement aumentando la proattività dell'utente l'azienda ha di ritorno quello che gli interessa quello per cui ha gli obiettivi i dati piuttosto che. Allora abbiamo pensato di prendere lo stesso concetto del comportamento e dell'engagement per riuscire a rispondere alla domanda come ingaggiare proattivamente i pazienti all'interno di un percorso non solo difficile quanto un percorso diagnostico terapeutico ma ancora più complicato come quello di partecipare a un clinical trial perché all'interno di clinical trial i pazienti sono in una condizione subottimale di salute devono seguire delle regole super strict mille terapie ancillari il farmaco sperimentale questione da compilare visite da fare eccetera eccetera quindi fanno molta difficoltà a seguirlo e succede quello che viene definito drop out quindi dopo sei sette mesi dall'arruolamento come viene definito in questi trials i pazienti ne escono con tutte quelle ripercussioni sia dal punto di vista di salute del paziente sia poi da quello dal punto di vista dell'innovazione del farmaceutica quindi i farmaci che ci mettono molto di più arrivare in mercato costi di efficienza eccetera eccetera allora lavorando su questo concetto abbiamo abbiamo deciso di applicare in maniera diversa l'intelligenza artificiale o comunque tecniche di machine learning per imparare non per cercando non di fare predizioni sullo stato risoluto del paziente che il classico modo in cui in vari nel settore al si cerca di fare predizione ma cercando di fare predizione sul comportamento del paziente che segue un determinato percorso di cura e dunque abbiamo inserito all'interno di questa applicazione un virtual assistant con una sorta di infermiere virtuale a che segue i pazienti su ogni attività che devono completare e in maniera personalizzata ed empatica con un mix di diverse persona stili di comunicazione tono voice a cerca di stare di supportare il paziente come come fa un infermiere e questo tra una vista e l'altra quindi a domicilio facendo questo noi assegniamo uno score che chiamiamo engagement score ideale del cento per cento come che equivale al comportamento ideale del paziente nel seguire quelle quelle regole tra virgolette che fanno bene a se stesso e alla ricerca e andiamo a monitorare in tempo reale quelle che il comportamento nell'utilizzo dell'applicazione facendo questo ogni minimo discostamento va a produrre dei cambiamenti automatici nella interfaccia dell'utente nell'esperienza dell'utente e nelle modi di comunicazione dell'assistente virtuale in maniera tale da cercare di mantenere sempre alto questo engagement del paziente il tutto da benefit quindi un win win sia per il paziente perché attiva e comporta quel cambiamento comportamentale positivo che gli fa prendere la terapia quando deve che fa informare il proprio medico ogni quando ce ne ce ne sia bisogno e dall'altra parte abbiamo una mole di dati quantitivamente qualitativamente migliore per le case farmaceutiche e quindi andiamo a ridurre i costi le inefficienze le tempistiche della raccolta dati durante il clinical trials anzi hai detto anche veramente delle cose interessanti detto tante cose però la lato che che mi ha colpita di più è quando tu hai detto che voi avete questo virtual assistant no che diciamo cerca di supportare il paziente che si adatta allo stile di vita allora questo mi ha colpito perché si tende sempre a pensare soprattutto quando si tratta di intelligenza artificiale no che sia tutto asettico cioè che il lato umano non conti nulla invece mi ha colpita perché anche sull'intelligenza artificiale c'è bisogno no del lato umano c'è bisogno di qualcosa di magari anche in termini di umanistico no cioè o no cioè mi sbaglio proprio quello perché perché con col background da infermiere che è molto più legato alla relazione terapeutica all'assistenza olistica del paziente abbiamo cercato di portare quello all'interno di un sistema automatizzato intelligente che potesse supportare il paziente anche quando la persona fisica l'infermiere il professionista sanitario non c'è e questo è diventato un po un punto di un punto di forza intanto perché all'epoca quando abbiamo portato il prodotto in mercato non c'era qualcosa di simile e quindi non abbiamo nelle onde tra virgolette della dell'innovazione nel campo di questa raccolta dati che vengono detti patient report outcomes ci sono state tre waves la prima wave era quella la classica carta e penna dove venivano detti in gergo piero poi con la internet bubble a questi dati sono di questi dati sono diventati i pro elettroni presione apporto da cams noi dal 2018 abbiamo fatto a paio ni ring di una nuova versione che si chiama copro conversesco nel testo rapporto da cams quindi abbiamo avuto la fortuna di introdurre questa innovazione all'interno del mercato di nicchia e a tutto questo in un in un mercato dove avevamo a tassi che vengono chiamati di protocol compliance quindi quanto il paziente complianza le cose che deve fare nella migliore delle ipotesi dell'ottanta per cento e dei drop out rate quindi il paziente che esce dalla sperimentazione del 30 per cento a sei mesi ad un anno di utilizzo in setting commerciale della nostra soluzione abbiamo raggiunto un 95 per cento di protocol compliance e abbiamo ridotto il drop out da un trenta a un due per cento numeri che tradotti in salute benessere del paziente e in costi dicono tantissimo poi scoppiata la pandemia durante la pandemia quel nice to have che erano la tecnologia nuova all'interno di questo settore dove tante volte no sai implementare già il digitale c'è una curva di costi a rialzo e poi un erro a e un ritorno sull'investimento che viene diluito nel tempo tante case farmaceutiche hanno fatto difficoltà perché c'era questa barriera dei costi di prelimentazione preferivano continuare con la carta e con la penna durante la pandemia ahimè tutti quegli studi e parliamo di un 80 per cento che si sono bloccati sono ritardati che non avevano soluzioni digitali hanno subito ritardo sono stati sospesi e dunque quel nice to have è diventato un must have un must have dove però abbiamo un ulteriore fattore se noi pensiamo che andiamo a eliminare o a ridurre la presenza fisica quindi le visite fisiche in ospedale tra medico e paziente abbiamo ancora più bisogno di ingaggiare gli utenti abbiamo ancora più bisogno di empatizzare con i pazienti e dunque non soltanto digitalizzazione ma digitalizzazione intelligente grazie all'assistente virtuale con il metodo copro che è quello che abbiamo portato e dunque durante la pandemia grazie a questo mix di value proposition nostro prodotto e di innovazione siamo riusciti a scalare molto più velocemente grazie alla domanda aumentata rispetto al nostro prodotto e siamo riusciti a crescere da 9 dipendenti a 40 dipendenti in un annetto circa fino poi ad arrivare a quella che è stata la exit lo scorso novembre 2021 da parte di una multinazionale di consulenza americana allora appunto tu hai detto che ormai questo è diventato un must have no ok quindi ovviamente tu sei ritrovato come già detto giustamente a gestire un business che ormai è qualcosa probabilmente molto più grande no forse anche non so di come te l'hai immaginato non lo so è diventato qualcosa di molto grande allora ti dico da un punto di vista economico no com'è che è sostenibile cioè com'è che cioè qual è il modello di business di una cosa che ormai è grande insomma è importante ecco sì anche lì abbiamo cercato di introdurre nel mercato dove di solito venivano prodotti custom software e venivano dati venduti nella sua interezza alle case farmaceutiche noi abbiamo introdotto il noi facciamo tutto ci prendiamo cura di tutto il custom software diventa un prodotto e noi diamo la licenza quindi per come compriamo la licenza netflix compriamo la licenza spotify eccetera eccetera anche i nostri clienti pagano una licenza per l'ottenimento per la personalizzazione del prodotto che va quindi personalizzato su ogni specifico cliente su ogni specifico paziente e poi per il mantenimento della del prodotto in mercato fino a quando queste esperimentazioni cliniche finiscono quindi abbiamo un modello che noi definiamo custom sas e c'è una sub che c'è una un'iscrizione in poche parole esatto pagato dalla casa farmaceutica la quale può essere volta da titolo gratuito ovviamente sia pazienti che a processi sanitarie la soluzione visto che diciamo soprattutto queste interviste le guardano prevalentemente persone addirittura più giovani di me quindi stiamo parlando c'è comunque ragazzi che insomma stanno cominciando adesso no il loro percorso non so a me ha colpito il fatto che tu abbia detto sai io facevo prima l'infermio avevo comunque una già una predisposizione no per questo mondo ci ha fatto l'infermiere cioè comunque tu conosci il settore cioè non è che ti sei lanciato a caso e una cosa che io noto spesso che ci sono delle persone giovani che anche ingenuamente no si lanciano in dei settori senza avere alcun tipo di come posso dire esperienza no invece secondo me un mestiere tu lo devi conoscere non puoi lanciarti no e quindi ti volevo un attimo chiedere cosa ne pensi tu di questo e cosa consiglieresti a un giovane che magari vuole entrare in questo mondo qui il mondo ovviamente possiamo definirlo mondo del health care no alla fine e che vuole si darsi da fare in questo settore qui ecco ok allora ai ai newcomer tra virgolette o ai wannabe imprenditori quello che suggerisco sempre è che di seguire a di costruire un team fortissimo una delle cose più importanti se non la più importante all'inizio è il team il team dove al cui interno ci deve essere di sicuro un esperto del mercato specifico che si vuole aggredire e se tra i founder non c'è bisogna trovarlo e farlo diventare founder dopodiché delle delle competenze eterogene e complementari quindi tre quattro cinque founders quelli che sono devono devono riuscire a lavorare insieme e coprire il cento per cento delle necessità che la startup ha nella fase da zero a uno e l'altra cosa di cercare di avere attorno sempre persone che sono migliori di sé anche nel ruolo che si ricopre quindi a mano a mano che si va avanti bisogna assumere le persone da cui si può imparare a cui si può delegare in maniera tale da riuscire a scalare il più velocemente possibile arrivo eh sto scrivendo l'ultima cosa che hai detto e appunto su questo discorso di delegare no cioè secondo te c'è c'è un po la tendenza dei giovani che si vogliono lanciare nel mondo a dire faccio tutto io faccio da sole cioè tu lo noti questa cosa un pochino sì allora il delegare è difficilissimo io faccio ancora fatica oggi però credo di essere migliorato tantissimo negli ultimi quattro anni ma all'inizio anche proprio questa tendenza perché si ha un po la paura di perdere il controllo perché si va molto facilmente nella tendenza del famoso micromanagement che anzi che è produttivo e va a produrre delle inefficienze e fondamentalmente sul quindi sulla delega a si bisogna imparare a cercare di delegare dando degli obiettivi e proprio obiettivi e aspettative e lasciare il resto alla persona che è delegata quindi non ti dico come fare le cose ti dico l'obiettivo dell'attività che ti sto dando e ti dico le mie aspettative rispetto a quell'obiettivo poi sta a te completare quell'attività e facendo questo si dà più spazio più ampio margine a lasciare libera la creatività della persona perché tutti facciamo le cose magari raggiungiamo lo stesso obiettivo ma facciamo in mille modi diversi ognuno con con la propria creatività con la propria e propria expertise l'altra cosa rispetto alla delega cos'era una delega e l'altra no l'altra era il discorso cioè che non te la volevo te la stavo per fare tante volte oltre a fare questo faccio tutto io tante persone mi vengono a dire che hanno paura di parlare della propria idea con gli altri per paura che gli venga rubata allora lì io cerco sempre di sfatare questo mito del degli altri che vengono a rubare l'idea di business perché un conto avere l'idea un conto metterla giù metterla a terra e creare qualcosa da quest'idea nel dal dal punto al punto b ci sono ci stanno in mezzo un sacco di soldi un sacco di tempo un sacco di di errori quindi anzi io penso che come face l'epoca parlare con più persone possibili dell'anno avere degli input vanno ad aiutarti a modellare quell'idea e a distanza di x mesi dalla tua primordiale idea dove aver parlato con tanta gente di settore non di settore la più disparata ci si rende conto che il punto di arrivo b della stessa idea tante volte completamente diverso rispetto all'idea primordiale allora io ti ringrazio e soprattutto spero che queste ultime cose che dette che detto vengano diciamo incanalate bene perché credo che siano molto importanti per qualsiasi persona giovane o anche non giovane che voglia insomma cominciare un business e poi si spera che abbia anche successo anche se è molto molto difficile vuole tanto lavoro e ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi grazie grazie mille marta